In questi giorni state sistemando il campetto qui a Cazzano Sant'Andrea che viene utilizzato sia dai ragazzi delle scuole ma anche dai privati. Spieghiamo un po' come si stanno svolgendo i lavori. Sì, esattamente. Allora, se permettete, una premessa sul precedente manto erboso che è stato utilizzato e è arrivato a un certo punto che l'erba era deteriorata e molto consumata e quindi diventava difficile e anche pericoloso giocarci, soprattutto per i bambini. Quindi ho ritenuto necessario di dare una nuova veste a questo campo, con questa nuova erba sintetica che è un'erba che oltre ad essere utilizzata per il gioco calcistico, quindi del calcetto a 5, può essere anche utilizzata per il tennis. Il campezzo da chi può essere utilizzato quando sarà pronto? Allora, considera che abbiamo fatto due anni fa come Comune una convenzione con il gruppo sportivo dell'Oratorio di Cazzano Sant'Andrea, in cui ci sono, andando sul sito del Comune, le tariffe, i numeri da chiamare per poter usufruire di questo servizio. E infatti, ecco, spero vivamente che con la nuova erba sintetica molte persone poi possano chiamare e usufruire di questo servizio. A quanto ammonta il costo dell'opera? Allora, l'importo dell'opera, comprensivo di rimozione della precedente erba sintetica più il posizionamento della nuova erba sintetica, tra fornitura e posa siamo sui 13-14 mila euro più IVA. Se posso ultimare, vorrei anche ricordare che il 29-30 giugno, qui in questo nuovo campetto in erba sintetica, ci sarà la classica 24 ore di notturna di calcetto a 5. Siamo arrivati alla quarta edizione e quindi faccio un po' di pubblicità per chi volesse partecipare e non si sa mai che magari adesso che il campo potrebbe essere utilizzato anche per il gioco del tennis che ci inventiamo anche di organizzare il torneo di tennis.